Allora in questo filmato vi spiego come smontare e rimontare una serracinia in schieninox. Non servono attrezzi particolari, due pinze, due pinze a pappagallo, si allentano le due parti, l'anellino in teflon esterno e tramite l'uso di un cacciavite, non di una punta che riesca ad andare a rovinare, si toglie la tenuta in teflon della prima parte. A questo punto si toglie la sfera forata, si chiude la sfera cinesca, ecco che la sfera può uscire. Si fa togliere sempre tramite il cacciavite l'anello in teflon che è interno, sempre porre attenzione a non scivolare, ad andare a creare un solco sul teflon. Si estrae, non bisogna tenersi in mente quali sia quell'interno o quell'esterno perché sono uguali. A questo punto si va a togliere la leva, è un semplice dado M8, si allenta. M8 o M10 dipende anche dalla misura della sfera cinesca. Si allenta il perno che va ad azionare tramite la leva alla sfera, ci si aiuta tenendolo fermo dall'interno e si estrae tutto il perno, cacciandolo verso l'interno. Si tira via l'anellino in teflon che c'è per fare tenuta di quel perno lì e il corpo della sfera cinesca è completamente a posto. Ora si toglie l'oring facendolo allungare diciamo, facendoli fare una pancia per riuscire a toglierlo dalla sua sede. Non usate punte su questo tipo di o-ring, sono in silicone e si rompono facilmente se andate a a pizzicarli. Si toglie l'anellino ed ecco la sfera cinesca è completamente smontata. Ora ovviamente bisogna rimontarla. I passi ovviamente sono al contrario ma li facciamo comunque. Si inserisce prima l'anellino in teflon. Anche qui i due anellini in teflon sono uguali per cui non serve sta lì a segnarci quale era interno e quale era esterno. Si inserisce lo ring e il tutto nella sua sede. Inseriamo l'anellino in teflon del lato esterno e stringiamo il tutto con il suo dado. Tutti e due hanno lo stesso filetto perché vanno nello stesso stelo. Però uno, quello che serve qui, ha una lavorazione, in modo che l'esagono non vada a cozzare sulla carcassa della sara cinesca. Non stringiamolo, non serve adesso stringerlo. Inseriamo una delle due tenute in teflon. Queste tenute in teflon hanno una lavorazione su un lato sferica, speculare della sfera, perciò hanno un senso. lo inseriamo, lo pressiamo bene, controlliamo che non sia messo male e inseriamo la sfera. Vedete che c'è una tacca, una fresatura e questa deve andare su quel nottolino che va a trasmettere la rotazione dall'esterno all'interno. Inseriamo la tenuta in teflon su quest'altra ghiera. L'anellino, sempre in teflon. E avvitiamo in tutto. Queste sara cinesche, per l'uso che ne facciamo noi come ombriù, che non andiamo su di pressione eccetera, non serve stringere come un passo. Anche perché dopo bisogna allentarle quando dobbiamo fare la loro pulizia e sanificazione. Perciò non serve stringere da matti. Adesso dobbiamo stringere quella ghieretta che ci va a fare la tenuta sul levarismo. Perciò infilando un dito proprio debbro nel foro della sfera, andiamo a stringere appena appena quella ghiera lì. Anche perché se la stringiamo troppo dopo la sara cinesca non gira. Perciò lo sforzo deve essere minimo, non deve essere troppo lenta. Basta se inseriamo la leva e stringiamo il tutto. Una piccola pressione qui alla leva e siamo a posto. La sara cinesca è pronta. In commercio, ne ho avuto capare anch'io, ho trovato delle sara cinesche molto economiche che però mi hanno riservato una bella sorpresa. Allora quella sotto è quella che vediamo come backbrewing, che perciò garantiamo che sia smontabile. Quella sopra, se controllate, non è esagonale, è ottagonale. Fatalità, io ne ho prese due e tutte e due hanno queste sedi ottagonali. Non sono riuscito ad allentarle neanche mettendole in morsa sul mandrino del tornio e con una pinza paperallo da 80 centimetri. Non sono riuscito a smuoverle. Per cui se acquistate altre tipologie di saracinesche, assicuratevi dal venditore che siano smontabili, altrimenti non potrete mai pulirle come bisogno e nemmeno sanificarle.